Buongiorno al sindaco di Castiglione Messere Mondo, Vincenzo Tercole. Intanto, prima domanda sulle sue condizioni di salute. Sto bene, da alcuni giorni non ho nessun problema e quindi ho recuperato il 100%. Spero che passi così questa positività. Ecco, quindi ti sottoporrai al tampone nei prossimi giorni per vedere se adesso sarai negativo. Sì, fino a quel momento resterò a casa e continuerò a lavorare da casa. Intanto, in questi giorni, Castiglione sta aumentando i suoi numeri di contagio, soprattutto sta aumentando il numero dei decessi. Ecco, a gran voce hai chiesto aiuto e lo stai continuando a chiedere. Sì, purtroppo siamo a 56 positivi e aggiornamento questa mattina. 13 morti e quindi io continuo a chiedere all'ASL un focus maggiore per questa zona e non screening generale, visto che i numeri, ahimè, ad oggi sono ogni giorno peggiori. Ecco, la tua richiesta è soprattutto una ed è quella dell'effettuare i tamponi a tutti. Sì, certamente, di effettuare più tamponi possibile e iniziare prima da coloro che sono sul fronte ogni giorno come i commercianti che hanno gli alimentari aperti, i supermercati, i vari volontari che girano per le case, protezione civile, croce rossa e farmacia, comunque quelli che sono sul fronte che potrebbero veicolare il virus. Certo, ecco, questo è il tuo messaggio e il messaggio anche degli altri sindaci della zona ormai sta diventando un grido disperato. Ecco, avete chiesto anche un presidio sanitario che però fino adesso non è arrivato. Sì, il presidio sanitario lo chiediamo ormai da settimane. La prima richiesta che avevamo fatto, questo per evitare di far andare più persone in ospedale e quindi avere uno screening sul territorio. Ad oggi non abbiamo avuto ancora nessun tipo di risposta, però noi continuiamo a chiedere fino a quando non otterremo i nostri obiettivi. Ecco, ormai già da una settimana, quasi due, c'è questa zona rossa. Come sta andando? Siete ormai abituati con i controlli? Ecco, come è il controllo sul territorio? Sì, sta andando diciamo abbastanza bene. Ci sono ancora alcune lacune da andare a capire, a sbrogliare, ma sono problematiche burocratiche delle varie autorizzazioni che toccano i sindaci. Ma l'obiettivo era quello di chiudere, di cercare di far muovere il meno gente possibile. Penso che ci siamo arrivati a questo obiettivo. Ecco, abbiamo toccato questo punto. Ieri è arrivata la nuova ordinanza del Presidente Marsiglio, che di fatto vi delega ad autorizzare gli spostamenti fuori dalla zona rossa. Ecco, questo è un altro problema in più. No, è un problema in più a livello lavorativo e burocratico sui comuni, perché ad esempio il mio ha tutti i dipendenti in quarantena, visto la mia positività. Però ci sono alcune attività che non possono fermarsi, come ad esempio i servizi e la gestione delle varie reti. Quindi parliamo di acquedotti, di metanodotti, che hanno alcune aziende che risiedono nella zona rossa e non possono non uscire, anche perché metteremo in crisi il resto del territorio con le zone rosse. Ancora, per concludere, qual è la situazione delle altre persone che sono a casa, anche quelle che sono per adesso asintomatiche o comunque che non hanno fatto il tampone, che hanno un po' così degli stati febbrili riconducibili a questo Covid? A parte alcuni ricoverati sul territorio, delle mie notizie che ho, non ho nessun caso particolare in questo momento. Mi auguro che nei prossimi giorni resti così e piano piano iniziamo ad avere qualche buona notizia e qualche buon segnale.